Previsto un incontro con i sindacati il 21 maggio, Girgentiacco e le organizzazioni di categoria tornano ad un tavolo per parlare di tagli al personale. Sono state già avviate infatti le procedure di licenziamento per 85 dipendenti. La comunicazione è stata inoltrata all'Assemblea Territoriale Idrica, ai sindacati e al Centro per l'Impiego di Agrigento sabato scorso. La lettera è firmata dal Presidente Marco Campione e da Piero Arnone, amministratore unico della società controllata a Idrotecne. Non si intravedono misure idonee al contenimento dei costi, soprattutto di investimento, se non con il ridimensionamento e la riorganizzazione delle attività affidate alla società, con conseguente riduzione di personale, avendo la società adottato ogni possibile iniziativa atta a razionalizzare i costi aziendali. Queste dunque le ragioni che hanno portato i vertici delle due società a maturare scelte drastiche e dolorose in chiave occupazionale. Sarà la società partecipata, creata nel 2013 per svolgere una serie di servizi a subire i principali danni. Su 155 dipendenti ne saranno licenziati 75, mentre saranno 10 gli operatori della Gergentiacque che potranno subire la stessa sorte su 186 assunti. Il gestore fa sapere che da anni chiude in passive bilanci nel 2017 è dichiarato meno un milione di euro e avrebbe difficoltà a risanare conti a causa di inadempienze o mancati riconoscimenti di partite economico-finanziarie da parte del Lati, che sono tra l'altro oggetto di azioni legali risarcitorie promosse dalla società, che ancora oggi non hanno avuto riscontro. Il riferimento è al calcolo della tariffa, all'azzeramento del fondo per investimenti, ma soprattutto alla mancata consegna delle reti da parte dei sindaci cosiddetti ribelli, che ha privato il Gergentiacque e si legge di una parte fondamentale di risorsa idrica, costringendola all'acquisto della società di sovrambito. Per non parlare della recente decisione del Lati di avviare l'iter per la verifica delle criticità e delle inadempienze, il cui esito, in caso di una connotazione negativa, potrebbe portare alla recessione del contratto con Gergentiacque, che dall'accanto suo, quasi come una partita scacchi, aveva annunciato subito la possibilità di poter cedere le proprie quote ad investitori stranieri. Adesso, sul tavolo, l'avvertenza legata ai licenziamenti.